Cotto non ti dà la mangiare, non può? Mangiare e dormire Mangiamo e dormiamo Finisce metà notte e andiamo Non ci muoviamo Anche sull'aglio l'ho chiesto ieri Mettetemi d'accordo voi due Che è dall'orefice Per me è uguale Quello è un orefice Stiamo parlando di San Bernardo 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 Tanto ha detto che porta su tre brasiliani Il poliziotto Non dite i nomi con gli uomini però Ho detto poliziotto Tre poliziotto, tre mignotte che porta Tre figane Eh la figa Questa è tua eh No bisogna dirgli al Paolino di preparare il banchetto 15 e mezzo figa Eh ma non vanno Non vedi che non vanno Oh Devi fare questa Nooo C'è un rampone Nooo Dai Te senza birilità Facciamo fare Via dritto Bravo Dritto Dritto Giù a destra Tutto a destra Ok Se viene su Sinistra Non in prima eh Oh Non in prima eh Eh Deppano Non in prima eh Ahahahahah Dai 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 Apri No Lui vuoi fare la prova Tanto non verrà su mai Tranquillo che non verrà su mai Chi? Il neve Se metti solo una che taglia i capelli magari Sì Allora vengono su tutti Hai 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 Si Si è fermato lì Nooo Lo fai Quando sei giù a sasso Via di frizione E vieni su Lo dico io Vieni su lo stesso Vieni su Non c'è Il casco Poi l'ho comprato un'altro ieri Se ne voglio in garage mi ammazzo Quattro casco Sono fuori di testo Ma pensavo che veniva su così Ma non ci ha preoccupato Ma non ti stupire ne Ma ora si ammazza Ciao Luiz Oh Oh Eh Eh Dei fennare qua Eh Come fa Luca? Eh ma se ti sposti salto su questo Eh salto sul sasso Eh Salto sul sasso Vai Ma che arriva eh No Ma non viene assoluta No Non è mia assoluta Da due giorni che si sta provando Vai ieri che fa Guarda Guarda è già lì Oh Il gas Do cazzo sta Guardate Benelli che ha bombato la benzina Benelli arriva fino a lì come minimo Eh Arriva fino a lì il Benelli C'è ma si ammazza Esatto Esatto E per quello mi sono spostato Eh Dandolo lì Va bene lì Il buco E' brutto E' brutto E' brutto E' brutto E' brutto Deci È brutto hai sentito il motore? ma sarà stato in seconda tanto per vedere se c'è qua se c'è un massimo mi ha dato male lì? c'è 150 kg sui motori non guardano i sassi le cose sotto niente loro vanno e basta zero, apre sul sasso tanto te la tira ad osso se sbaglia sono tutti sul canale ti trovi tutto sul motoclub i leoni vanno sempre su solitamente